Attenzione, questa è una fiction interattiva. Utilizzando il telecomando del vostro digitale terrestre potrete mutare il corso degli eventi. Lo sappiamo, lo sappiamo. Sensualità a corte. Eh, che bello. Cosa accadrà oggi? Giuliano, 1794. Il bellissimo baronetto Benedouche è stato promesso in moglie alla perfida Cassandra e per questo è in astio con Madra. Ma il giovane nobiluomo nel suo intimo vorrebbe sbagarsi col tarco nero, esule poi stilista ad Urbino. Benedouche Madre Benedouche, figliuolo adorato, oggi compi vent'anni e quindi stai diventando un momento. Dovrò dire addio ai miei giochi da adolescente? Certo, Barbie, Las Vegas e Tania Supermarket. Madre, basta con i litigi, basta con i rancori, poniamo fine alle nostre incomprensioni. Madre, sei sangue del mio sangue. Madre, si può dire che il giovane nobiluomo è stato promesso in un momento. Mi fa venire a dire che il mio sangue non ha funzionato. Mi non velo è stato promesso piuttosto. Oh, vadi via! Vadi via! Oggi Benedouche compie gli anni. Gli voglio insegnare qualche nuova parola. Benedouche! Eccomi, passandra! Benedouche, avvicinati. Più vicino, Benedouche, ti sento distante. Senti male, Cassandra? Benedouche, sono già tutta bagnata. Cassandra, hai fatto l'iniezione? Benedouche, se ti dico petting, che cosa mi rispondi? Spazzolini! Ha detto spazzolini? Cassandra, Cassandra, Cassandra! Cugina sfiga, compagna del mio vagare, perché non ti prendi una vacanza e te ne vai a cagare? Madrina! Oh, Benedouche, mio diretto, cosa hai da angustiarti? Madrina, sono disperata. Proteggimi dalle ire di madre e di Cassandra. Oh, Benedouche, mia piccola mozzerlina saporosa. Oggi compie vent'anni ed è venuto il tempo di lasciare i tuoi trastulli pueriti. Bisogna che tu faccia nuove esperienze amorose. Vuoi che Benedouche per i suoi vent'anni venga stuprato da frango? Premi il tasto A del tuo telecomando e entro tre secondi. Grazie alle forze dei burkellini, finalmente sono riuscito a strapparmi di dosso il camice e rassumere la mia vera essenza di porco nero. Ma... Qui c'è odore di gas. È probabile che la bombola nuova a terra sarà meglio non accendere fuoco. Cento di questi giochi!